Abbiamo dormito a lungo. Al nostro risveglio abbiamo trovato solo desolazione e morte. L'ultimo barlume di speranza sopravvive grazie alle gemme. All'occhio così insignificanti, eppure così preziose. Molti credono che la trasformazione degli uomini sia stata un'involuzione naturale. Ci chiamavano le cacciatrici di uomini. Io sono l'ultima rimasta. Non posso fermarmi ora, o presto non ci sarà più nessuno da salvare.